Salve a tutti, mi chiamo Annie Brighton e vi do il benvenuto alla prima lezione di letteratura greca. Oggi parleremo dell'importanza della letteratura greca. È importante studiare la letteratura greca antica per vari motivi. Innanzitutto per l'alto pregio di molte opere a noi pervenute, anche per il particolare modo con cui sorsero nell'Ellade varie forme di componimenti letterari e inoltre per la grande influenza che gli scrittori greci esercitarono su tutti i popoli civili moderni. Alcuni capolavori dell'antica letteratura greca, infatti, sono ancora oggi considerati per la loro eccellenza di forma e di pensiero esempi insuperati di genialità artistica. I poemi di Omero, le tragedie di Eschilo, di Soflocle e di Euripide, le Odi di Pindaro, non temono il confronto con le opere dei più grandi poeti di ogni età e di ogni nazione. Unica ancora nel suo genere resta la Musa di Aristofane, Prodigio sorprendente d'inesauribile vis comica. Anche nella prosa nessuna letteratura né antica né moderna può vantare scrittori che vincano per ricchezza e per varietà di stile le pagine immortali di Platone o che possano insidiare il primato di Demostene o di Tucidide per la sobria energia d'eloquenza o per il periodare denso, conciso e chiaro. La letteratura greca si distingue da tutte le altre per la sua originalità e popolarità. I greci derivarono molti elementi della loro cività e cultura da altri popoli con i quali vennero a contatto. La religione, le istituzioni, le arti contengono elementi importati nella Grecia dai fenici o dai popoli dell'Asia minore. La letteratura greca fu una spontanea schietta ed originale creazione del popolo, di cui il suo carattere popolare perché sorse fra il popolo e per il popolo, di cui esprimeva sentimenti ed aspirazioni, collegandosi intimamente ai suoi costumi, alle consuetudini della sua vita, alle sue istituzioni politiche, religiose e sociali. Le opere letterarie non sono in Grecia creazioni isolate di un genio privilegiato che le pensi e le elabori inconsciamente nell'ispirazione di un momento per soddisfare un bisogno dell'intelletto o del cuore, ma esse nascono per rispondere alle molteplici esigenze della vita intellettuale e morale, di un'intera nazione. La storia letteraria della Grecia antica, pertanto, non può mai essere disgiunta dalla storia delle vicende politiche e delle istituzioni religiose e sociali. È impossibile comprendere gran parte della lirica greca senza conoscere le fazioni che dividevano e laceravano gli stati e le città della Grecia nel campo politico e senza tener conto dei sentimenti che raccoglievano le stirpi greche nelle grandi feste nazionali, dove si celebravano le memorie delle età più antiche. Né potremmo comprendere la nascita e l'evoluzione del genere drammatico senza conoscere dettagliatamente i riti ed il culto che i greci tributavano agli dèi. Né potremmo comprendere molte proprietà e forme dell'arte oratoria senza conoscere gli usi dei tribunali e delle consuetudini diffuse nelle assemblee popolari. Il genio del popolo greco trovò in sé stesso un potente impulso al culto della poesia e dell'arte e proprio per questo motivo si dimostrò nuovo ed originale. Il genio del popolo greco creò da sé tutte le svariatissime forme, e gli ideali delle belle lettere. Per primo concepì ed attuò quei tipi che, imitati e riprodotti dai romani, si tramandarono in seguito a tutte le letterature moderne. L'epopea, la lirica, il dramma greco solo nelle loro caratteristiche fondamentali, i modelli esemplari ai quali le più colte nazioni moderne da sempre si ispirarono per creare le forme svariate della propria epopea, della lirica e del dramma. Perché i generi letterari della Grecia antica rispondono perfettamente agli ideali cui anela incessantemente il genio dell'artista. Ai generi letterari dell'antica Grecia si ispirano anche la nostra storiografia, la nostra eloquenza politica e forense, la nostra arte delle discussioni e disquisizioni filosofiche. Nell'antica Grecia vi sono le fonti prime da cui tutti i popoli civili d'Europa derivarono molta parte della loro cultura, soprattutto noi italiani che da sempre siamo congiunti ai greci da affinità di sangue, di indole e di ingegno. La letteratura greca ha esercitato un'influenza grandissima su tutta la letteratura latina e poi più tardi o direttamente o per mezzo di questa su tutte quante le letterature moderne. Di qui il grande interesse per essa e l'importanza della sua storia. La conoscenza della letteratura greca è necessaria per poter capire ed apprezzare convenientemente la letteratura dell'antica Roma. La nostra letteratura è quella di ogni altra colta e civile nazione moderna. Innumerevoli sono i pregi delle opere letterarie greche a noi pervenute. In primis va rilevata la squisitezza della loro forma, terza e limpidissima, dalla quale il pensiero traspare sempre lucido e compiuto. I versi greci sono caratterizzati da una varia armonia. I periodi scorrono facili, rotondi e ben equilibrati. Le immagini che sgorgano abbondanti dalla fantasia dello scrittore sono vivaci e colorite. Le opere greche non presentano solo pregi di forma. Infatti il genio ellenico fu al contempo artistico e pratico, animato dalla potente intuizione di coniugare il bello con l'utile ed il vero. Il genio ellenico indagò con acume portentoso l'origine e la ragione delle cose. Osservò e rilevò i rapporti fra la natura e l'uomo e forse, primo fra tutti i popoli, concepì gli alti e nobilissimi fini dell'esistenza umana. Pertanto la letteratura greca è al contempo bella e perfetta nella forma e nobile ed alta nel concetto ed è importante tanto per l'arte che per la scienza. Ancora oggi nelle opere greche di venti e più secoli fa troviamo una freschezza di pensiero, un sentimento d'attualità, una corrispondenza alla vita del nostro animo e del nostro intelletto che certamente non troviamo nell'antica letteratura latina e forse nemmeno in molta parte della letteratura italiana di qualche secolo fa. L'influenza esercitata dalla letteratura greca sui romani fu così larga e profonda che senza di essa i romani o non avrebbero mai creato una loro letteratura o l'avrebbero avuta ben diversa. I greci hanno influenzato anche le letterature dell'Europa moderna poiché tutte o direttamente o indirettamente attraverso la mediazione delle lettere latine attinsero più o meno alle fonti greche ispirandosi ai modelli greci. Anche per questo motivo dunque la conoscenza della storia letteraria dell'antica Ellade è estremamente interessante e distruttiva.